Oggi siamo a pranzo fuori perché ci siamo fatti un giro per il centro, credo di Balsko, comunque una zona qui pedonale. Mi è entrato in questo locale super carino, abbiamo parlato con il cameriere e comunque l'accento inglese che hanno è molto forte, ho avuto molta difficoltà a capirlo. Abbiamo ordinato l'antipasto e un secondo, non ho ben capito che cosa abbiamo ordinato quindi siamo molto curiosi di scoprirlo, però sembrava, suonava quantomeno buono quindi vediamo. Abbiamo preso del formaggio fritto come antipasto, sembra che abbia delle noccioline e del miele sopra, ora assaggiamo com'è. E' molto buono, è formaggio di capra. E' arrivata la portata principale che si chiama Mixed Sash, quindi è un mix di cose, tanti ingredienti che non mi ricordo a memoria quindi li leggerò dal menù. E' arrivata la portata principale che si chiama Mixed Sash, quindi è un mix di cose, sono pollo, maiale, manzo, credo zucchine, cipolla, peperoni, patate e funghi. Adesso vediamo molto bene perché sono molto curioso. molto buono. Per accompagnare il piatto abbiamo preso del homemade bread con olio e origano. Buono. Abbiamo ordinato questa biscuit cake che dovrebbe essere appunto un dolce tipico locale. Adesso vediamo come. Non ho neanche capito gli ingredienti che ci sono in realtà. è particolare perché è molto budinosa come si può vedere da qui, però non è malissimo, non il mio dolce preferito, ma non malissimo. Grazie. Grazie. Grazie.